Sì, mette in discussione una partita dove penso che per gioco, per dinamicità, per attenzione io penso che la Puttolana abbia meritato, anche perché secondo il primo tempo tranne qualche ripartenza o qualche tiro da lontano non ci abbia mai creato situazioni pericolose. Noi invece con Gioeli abbiamo creato delle azioni importanti dove il palo interno è un palo, ci ha negato il gol già dal primo tempo. Nel secondo tempo sono stati bravi a entrare con lo spirito giusto di potercela fare, di non rischiare nulla. Purtroppo forse pensavamo che già fosse finita e ci è andata bene, però penso che al di là di quell'occasione la Puttolana ha meritato la partita. Anche perché contro l'Ischia è sempre una partita fisica, ci aspetta un po' per il campo, un po' per l'atteggiamento della squadra ischitana, ci aspetta sempre una partita dove ci sono tanti duelli. L'ammunizione ha condizionato tanto, tanto è vero che in una ripartenza proprio a fine primo tempo ha rischiato tantissimo e si è fermato. Io nel secondo tempo non potevamo rischiare. Ho la fortuna, ho sempre detto, di avere una rosa importante fuori. Oggi avevamo dei giocatori importantissimi come Grezio e Guarracino, sono stati sostituiti, penso egregiamente, sia da Evaco, finché ha retto, perché anche lui è uscito per problemi, e lo stesso Gioielli che ha fatto una grandissima partita. Però io penso che lo spirito della Puttolana è quello che io ho sempre chiesto dall'inizio, poi le partite possono anche perdere. La cosa importante è che noi sappiamo benissimo che oggi non finisce il campionato, perché abbiamo visto che il girone di ritorno è sempre un girone importante. È normale che c'è stato un inserimento dove noi avevamo provato questa situazione, poi siamo stati bravi e fortunati, purtroppo quando c'è un gol c'è un errore di qualcuno. Poi dopo non abbiamo saputo gestire due o tre ripartenze dove noi potevamo sfruttare benissimo sia l'apertura di campo che quello che ci concedevano. Per assurdo, le nostre ripartenze subivamo il contropiede, quindi infatti la mossa di inserire Petrarca soprattutto per dare centimetri, visto che era entrato De Luise, noi abbiamo fino a che quella situazione che sinceramente non ci ho capito niente anch'io. È stata un'azione un po' confusa dove i miei pensavano che fosse finita, però ci serve da lezione per la prossima partita dove magari dobbiamo ancora stare attenti. L'Ischia penso che sono due anni che l'affronto e penso che non ho mai visto una sconfitta dell'Ischia. A parte la finale con la Mariglianese, penso che l'Ischia ha sempre fatto del suo campo per il suo senso di appartenenza una delle sue armi migliori, soprattutto su questo campo. È normale che dare un'ammazzata del genere al campionato vincendo a Ischia per noi è molto importante, però allo stesso tempo ci sono altre partite, altre squadre e sappiamo benissimo come abbiamo vinto qui e soprattutto nei minuti finali dove non possiamo mai abbassare la guardia. Vincere a Ischia e soprattutto con un'Ischia coreacea come lo è stata quella di oggi non è mai facile. Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, preparata nei minimi dettagli dal mister e dal suo staff, i ragazzi hanno interpretato nel migliore dei modi tutte le indicazioni date dal mister e abbiamo ottenuto una vittoria importantissima che ci dà continuità in quello che sono i risultati ma soprattutto in quello che è la fiducia nei nostri mezzi e soprattutto per quello che è il proseguo del campionato. Le insidi sono ancora tanti, il campionato è ancora lungo, mancano ancora 12-13 partite, abbiamo ancora degli scontri diretti importanti, le altre non mollano. Noi facciamo il nostro percorso, l'abbiamo fatto fino ad ora, sappiamo l'importanza di quello che stiamo facendo, i ragazzi sono concentrati con voglia, con determinazione, con tenacia, sanno quello che può essere l'obiettivo e soprattutto le soddisfazioni che ci può portare. Passa alla volta, ci stiamo avvicinando al rush finale, però bisogna stare tranquilli, lavorare ancora con umiltà, farsi trovare pronti e non mollare mai la presa. Dobbiamo fare santo maiellaro. Ha fatto un intervento da portiere da categoria superiore, sarebbe stato veramente una beffa, anche perché, come avete detto voi prima, la Putilana ha meritato, non è stata mai messa in discussione la vittoria, due pali nel primo tempo, qualche occasione sprecata nel secondo tempo. Realmente sarebbe stata una beffa prendere gol nei minuti finali. No, non avere rivali no, perché io penso che l'Issia, il Savoia, il Napoli United, della stessa frattesa, sono squadre molto attrezzate, sono dei blasoni importanti, delle piazze importanti, con società importanti e soprattutto con tifoserie calde. Quindi credo che, ripeto, dobbiamo lavorare con umiltà, dobbiamo stare tranquilli. Noi abbiamo creato un gruppo all'inizio che doveva avere una mentalità vincente, fino ad ora i risultati ci stanno dando ragione, speriamo di continuare fino alla fine e di arrivare a portare di nuovo la Putilana in Serie D.